Grazie a tutti La differenza nel tempo. Oggi le mafie, scriviamo le mafie con un linguaggio assolutamente diverso rispetto a come facevamo 20 anni fa o 15 anni fa. Una volta si raccontavano i morti ammazzati, si faceva la cronaca più cruda. Oggi raccontare le mafie, anche la luce del cambiamento delle mafie è diventato più complesso. Bisogna riuscire a raccontare questo cambiamento e quindi le mafie, non si parla più di morti ammazzati ma parliamo di mafie economiche. Un buon cronista che si occupa di mafie, una volta conosce il calibro delle armi usate, oggi deve avere cognizione di quello che è il mercato, di quello che è il mercato economico, finanziario, delle attività commerciali. Cambia il linguaggio nel tempo in questo senso. Poi cambia il linguaggio nello spazio, cioè fra raccontare le mafie al sud e raccontarle al nord. I territori che da più tempo vivono le mafie e vivono le mafie sulla propria pelle sono abituati a quel tipo di racconto. Raccontandola a dei lettori che non hanno attitudine con quel tipo di fenomeno ovviamente è diverso. In Calabria io posso dare per scontato alcune cose perché so che il pubblico dei lettori conosce già quel tema. In Emilia Romagna piuttosto che in altre regioni del nord è necessario un linguaggio più semplice, più didascalico quasi, ma è un fatto normale come avviene da sempre e credo forse anche in tutti gli ambiti. Una seconda domanda. Lei oggi è venuto qui da essere di moderatore per l'incontro intitolato i 40 anni della legge Rognoni-La Torre che introdusse il reato di associazione di stampo mafioso. Le volevo chiedere un breve commento appunto circa l'evento, circa il dibattito. Sì, l'evento e il dibattito mi sembra molto interessante, anche perché questo sarà un tema dei prossimi mesi e io credo dei prossimi anni. La legge Rognoni-La Torre nasce per colpire, per combattere un fenomeno che 40 anni fa era in una maniera. Oggi quel fenomeno è cambiato ed è giusto, io credo, che la società civile, le associazioni, gli intellettuali si interrogano sull'efficacia oggi di quella legge. La legge funziona, noi sappiamo che funziona e che funziona ancora. Dal mio punto di vista forse andrebbe rivista per attualizzarla rispetto ai nuovi reati che sono tipici delle mafie, del nuovo radicamento sui territori, all'internazionalità delle mafie. L'Andranghe da 40 anni fa arrivava tutto al più ai confini del Pollino. Oggi sappiamo che giocano in borsa e che sono presenti in tutti i continenti. Probabilmente bisognerà rivedere quella legge, dal mio punto di vista, o farne una che tiene conto di, da affiancare a quella magari, che tiene conto del fenomeno, dell'evoluzione del fenomeno. Bisogna essere moderni. Noi abbiamo sempre perso con le mafie e perdiamo ancora oggi perché lo Stato e la società sono arrivati in ritardo. Per una volta dovremmo provare ad essere, come dire, ad aspettarli noi ed essere pronti. Le ringrazio.